A 50 anni dalla pubblicazione degli Xenia di Eugenio Montale, la tipolitografia Bella Barba di San Severino Marche, con il patrocinio di numerosi enti, promuove Amare un'ombra, omaggio a Montale, poeta e pittore. Venerdì 2 dicembre ripartiamo dalla cultura per ripensare il futuro. Alle ore 18 presso il Cinema Italia, il professor Mancini intervista Serge Latouche, oltre la religione della crescita, verso un'altra società. Amare un'ombra, San Severino Marche, omaggia Eugenio Montale, il sapore della solidarietà, il dono della quotidianità e del futuro.